Esercizio 1. Radicamento. Questo esercizio di radicamento può aiutarti a ritrovare il contatto con la terra e con la concretezza del tuo corpo. Puoi fare questo esercizio ogni volta che ti senti debole, scarica o confusa, oppure ogni volta che vuoi. Spegni o silenzia il telefono e assicurati di non essere disturbata per tutta la durata dell'esercizio. Prenderti questo tempo per te è un atto d'amore che rivolgi a te stessa. Siediti su una sedia con la schiena diritta e rilassata. Togli le scarpe assicurandoti che i piedi siano bene al caldo. Fai in modo di avere le piante dei piedi completamente a contatto col pavimento, o meglio ancora, se possibile, con la terra. Ora chiudi gli occhi. Se preferisci, puoi anche tenerli aperti. Fai qualche respiro profondo, svuotando completamente i polmoni e la pancia, e poi inspirando di nuovo con calma. Prosegui così per qualche momento. Adesso senti come il peso del corpo poggia sulla sedia. Osserva come la sedia sostiene il peso del tuo corpo. Il pavimento sotto di te sostiene il peso della sedia e il peso del corpo. La terra sotto il pavimento sostiene interamente il peso del pavimento, il peso della sedia e quello del corpo. Se ti trovi in un edificio, la terra sostiene anche l'intero peso dell'edificio. E lo fa anche quando non ci pensi, mentre sei impegnata a fare altro. Vedi adesso se ti è possibile affidare interamente il peso del corpo alla sedia sotto di te, al pavimento, alla terra. Lascialo semplicemente poggiare. Rilassati e lasciati sostenere. Se lo desideri, puoi anche poggiare la schiena allo schienale della sedia, oppure a una parete. Lasciati sostenere. Apriti a percepire la stabilità della terra sotto di te, che sostiene tutto il peso del tuo corpo, senza chiederti nulla in cambio. Apriti ad ascoltare l'amore che la terra nutre nei tuoi confronti per il solo fatto che esisti, che sei una delle sue figlie. E' per questo che si chiama Madre Terra. E' per questo che si chiama Madre Terra. Permettiti di ricevere. Permettiti di ricevere. Prosegui così per tutto il tempo che vuoi. Al termine, potrai ringraziare interiormente la terra per il sostegno che ti ha dato e che continuerà a darti, ovunque tu ti trovi e qualunque cosa tu faccia. Grazie di aver ascoltato questo video, spero che ti sia stato utile. Questo video è tratto da una serie di esercizi che fa parte del mio libro Il tuo corpo è sacro. Un libro che tratta di abusi sessuali, relazioni tossiche, dipendenza da pornografia e una serie di altri argomenti relativi al sesso e all'amore. Qui nei link in descrizione trovi tutto quanto ti serve per acquistare il libro, in versione cartacea, in versione ebook oppure come audiolibro. Se ti è piaciuto questo video ti invito a condividerlo e non dimenticare di iscriverti al mio canale. Trovi sempre qui sotto in descrizione tutto quello che ti serve. Grazie ancora di aver ascoltato e a presto.